Direttamente dalla Cameretta Magica Oggi, 29 di giugno Da Amazon mi è arrivato un pacco Comunque ora prendiamo la zaccagna E passiamo all'unboxing Che cosa ho preso stavolta? Stavolta ho pigliato Il film d'animazione Brisbane e il segreto del Min In pratica questa è la edizione francese Che in pratica l'ho pagata 10 euro e qualcosa su Amazon Ma comunque contiene l'audio italiano Comunque è un film prodotto dalla MGM Cioè la Metropole di Goldwyn Mayer E la Warner Brothers È un film diretto da Don Bluth Don Bluth, stesso regista del primo film di Fievel E di Anastasia Comunque le lingue che contiene sono Francese, inglese, latino e italiano Comunque Poi comunque in ogni caso Allora questo è un film d'animazione Che per quanto ho sentito è un film per lo L'animazione per lo più Tendenzialmente più per Fasce di edà un po' più alte Anche al di sopra dei 10 anni Comunque In questo film abbiamo le voci In lingua originale Abbiamo la voce di Don DeLuise E di John Carradine Poi in italiano abbiamo La voce di Nico Demus Che è niente proprio di meno Che di Giorgio Piazza Stesso doppiatore che ha fatto La voce narrante nel cartone animato Di Heidi E nel cartone animato Di Dolce Remy E poi di altre voci abbiamo Della Vedo Della signora Brisby Doppiata da Flaminia Iandolo Poi abbiamo anche Piero Tiberi Nel cast italiano Che dire E niente Ci vediamo alla prossima